Bene amici, eccolo qua, è arrivato finalmente il P10 Lite in colorazione oro, ovviamente ho qua anche il P9 Lite, uno dei miei best buy dell'anno scorso. Cosa cambia? Sostanzialmente, li vedete, i materiali dalla plastica si passa finalmente, o forse no, qualcuno preferisce comunque la plastica al vetro, ma una cosa sostanziale, cambia la memoria interna, perché da 16 GB si passa a 32, e questa è una grande cosa. 4 GB di RAM, il processore cambia, un processore veramente molto molto efficiente, però porca miseria ci sono ancora quei 50 euro troppo, perché al lancio costa 349 euro. Funziona bene? Li vale? Andiamo a scoprirlo insieme. Ecco la scatola, si apre in maniera particolare, in verticale, come altri Huawei che abbiamo visto nel passato, e vediamo cosa contiene la confezione, perché abbiamo dentro il caricabatterie che è fast, c'è 5 ma anche a 9 volt, ricarica circa in due ore da zero, ma un buon 40% in mezz'ora. Le cuffie non le neanche provate, perché sono le solite di Huawei, quelle simile Apple, provate mille volte, e poi il cavo che non è di tipo C, ma è una micro USB. Guardiamo qua cosa c'è dentro, oltre al manualetto troviamo la spillina per estrarre il carrello. Carrello che è posto qua, vedete, ci sta una SIM e anche un'espansione micro SD. Sotto la micro USB, il microfono, l'altoparlante, lateralmente i pulsanti per il volume, l'accensione di spegnimento che è zigrinato, quindi si riesce a trovare bene al primo colpo, e sopra jack per le cuffie e il secondo microfono. Dietro l'ormai classico sensor di impronte, sul P9, scusate sul P10 è stato portato avanti, su questo light è rimasto dietro, la camera da 12 megapixel più il flash LED. Si sblocca sempre 10 volte su 10, molto veloce il sensore, ovviamente anche le gesture come tutti i Huawei per aprire le notifiche, scattare le foto, eccetera, eccetera, ma non è in questo caso cliccabile come su Honor. Celle di notifiche, è qua in alto a destra, un po' fiocco, non potentissimo, però si vede. Camera anteriore qua, 8 megapixel, sessualità, prossimità, e i pulsanti, come vedete, sono sullo schermo, nonostante ci sia una buona cornice sotto, ma vabbè, pazienza. Entriamo nelle impostazioni, vedete, classiche, è la Emotion UI 5.1 con Nougat in versione 7.0, non so se vi è caduto l'occhio qua sul processore, ve l'ho detto prima, Kirin 658, veramente ottimo per quanto riguarda proprio l'efficienza. Ha l'OTG, ha l'NFC, il GPS funziona bene e ha anche la bussola oltre al giroscopio, e vi parlo di autonomia. Ho fatto il live della batteria, mi ha accompagnato nella presentazione di S8, e questi sono stati i risultati dopo una giornata veramente molto stress, 40 minuti di chiamate, 3 ore e 40 minuti di schermo, un telefono che consuma veramente poco, non scalda mai nemmeno sotto stress, diciamo che molto meglio di P10, giusto per fare un paragone, anche meglio di P9 Lite, giornata stress normalizzata, sono arrivato la sera con il 20-25% di autonomia residua, quindi veramente tantissimo. Entriamo nella galleria perché volevo entrare nelle immagini, sì, ma dove sto andando? All'indietro quello là era dello screenshot, nelle immagini di test, andiamo qua, partiamo dalla palette colori, è un 5.2 pollici full HD IPS, vi faccio vedere gli angoli, vi faccio vedere anche le altre immagini, i neri, i bianchi, insomma, ormai i display con queste caratteristiche sono tutti più o meno uguali, questo è ben visibile al sole, ok, il sensore di luminosità è anche abbastanza oleofobico, insomma, un display diciamo nella media per questa fascia di prezzo, non ha nessuna criticità da quel punto di vista. Vi ciò prima del sistema operativo, non ci starei tanto su, la solita Emotion UI ha l'uso a una mano, sempre molto comodo, la gesture di attivazione, ha le doppie applicazioni, quindi le app gemelle, ma non su tutto quello che scarichiamo, solamente su WhatsApp e su Facebook, quindi la possibilità di avere un doppio account. C'è la possibilità di scegliere se avere il drawer o non il drawer, l'assistenza intelligente, ci sono tante opzioni, il tasto di navigazione qua sotto che è personalizzabile, si possono anche aprire le notifiche, questa è una cosa molto comoda, tra l'altro le direi che le cancelliamo tutte. Un punto debole di questa Emotion UI, secondo me, rimane un po' il tema, non ce ne sono di bellissimi, c'è ovviamente l'applicazione, ci sono dei temi online, ma non sono particolarmente soddisfacenti, non c'è un tema che mi faccia gridare wow, come per esempio lo store dei temi di HTC, tanto per farne uno che secondo me è lo store dei temi migliori. Vabbè, tant'è, torniamo indietro, vi parlo adesso di come, no, prima di parte telefonica, chiamiamo il 133, la mia sim principale oggi è dentro nell'S8, sto facendo il live batteria di S8, quindi per adesso ho un po' l'apparcheggiato in non disturbare, ma mi faccio sentire Vodafone. Non è Vodafone, ma è 3, la ricezione è molto buona, il dialer bene, non benissimo perché comunque non è molto intelligente, cioè quando faccio una ricerca andando a scrivere non mi trova i contatti utilizzati più di frequente, ma mi trova sempre la stessa lista, comunque è abbastanza comodo, e l'audio sia in ricezione, sia avete sentito in viva voce, sull'attesione della capsula sia in viva voce, è decisamente buono. Andiamo a vedere il trittico, ho aperto Instagram, che devo dire gira bene, ormai i Huawei con questi Kirin girano veramente tutti decisamente bene, ma già il P9 Lite l'anno scorso girava veramente benissimo, non mi aspettavo nulla diverso da questo P10. Ovviamente con la Emotion UI basata su Nougat abbiamo il multitasking finalmente in verticale, molto comodo da utilizzare, e torniamo alla home page perché vi faccio vedere al volo il browser. Eccolo qua il live dell'S8, ma andiamo su automoto.it, sito abbastanza pesantuccio, non l'avevo chiesto in desktop, lo facciamo subito. Avete visto come gira, un telefono che non ha incertezze, anche se gli facciamo tante richieste ai contemporanei, in questo momento mi ha appena sburgiardato con un super lagone, ma non sono quelle che si verificano poi nella quotidianità, nell'uso quotidiano, quindi non danno assolutamente fastidio. Gaming, 12 secondi per aprire Real Racing, poi fluido. Il Kirin 658 si accompagna con 4 GB di RAM in questa versione, 32 GB di memoria integrata, è la Mali T830 MP2, e parliamo di parte multimediale. Tra l'altro è un processore con un processo produttivo a 16 nanometri, quindi un processore decisamente moderno questo nuovo Kirin. Guardate la messa a fuoco che è abbastanza, abbastanza veloce. L'interfaccia della fotocamera è quella che ormai conosciamo, con la possibilità qua di fare le foto pro, ma anche i video pro, quindi andare a settare alcuni parametri, vedete, manualmente. Rifacciamo così per entrare nella foto pro, vi faccio vedere anche qua che cosa si può andare a modificare manualmente, l'esposizione, gli ISO, il tempo di scatto, la messa a fuoco, diciamo, e qua la misurazione della luce, dell'esposizione. Torniamo indietro, le altre modalità sono le classiche, troviamo su praticamente tutti i Huawei, con la possibilità di scaricarne altre, tipo la modalità cibo, insomma, anche qua non mi perderei troppo perché le opzioni sono le solite. Però un'altra cosa che volevo far vedere, su iPad S, la risoluzione è in 4 terzi del sensore, vedete, massimo 12 megapixel, se andiamo indietro le, anche qua, solite opzioni che troviamo praticamente in tutti i Huawei, che non hanno il sensore Leica, perché la differenza tra il P10 e il P10 Lite è proprio la mancanza di questo sensore. Entriamo nella galleria, vi faccio vedere gli scatti che ho effettuato, ma ne avete mille, perché ripeto, tutto il live fatto per S8 è stato fatto con questo telefono, ma andiamo a analizzarli un pochino più approfonditamente. Primo scatto fatto su questa macchina che ho in prova, la Nissan Leaf, molto bella, elettrica, che bello guidare elettrici, e poi qua uno scatto macro con un bel bocchè di fondo, vedete, l'ha fatto uno sfocato naturale, non artificiale, non software, che bella la primavera, mi piace un sacco. Qua, su questa foto, bella la panoramica, però si inizia a notare, guardate là dove c'è scritto Unicredit, una sorta di un po' impastata, soprattutto se la si guarda al PC, difetto che si accentua quando c'è poca luce, ed è proprio quando c'è poca luce che questo telefono mostra un pochino la corda, qualche piccola criticità, anche la gestione, diciamo, delle luci, anche se l'HDR, devo dire, che lavora bene. Questa è una foto fatta con la camera anteriore, anche qua comunque abbastanza buona, camera posteriore, ci spostiamo perché il soggetto non è proprio il massimo, e questa foto, che ho fatto anche confrontandola con i top di gamma, S8, G6, eccetera, 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 vedete qua, è un pochino impastata sugli alberi di questo bosco verticale, bella questa, bella questa macro, insomma, in generale, abbastanza bene, ecco qua provo a farlo zoom, zoom minimo, zoom massimo, questa è una super capoccia di Google che studia il machine learning, quindi veramente tanto di cappello a questa ragazza che ha 30 anni, veramente è in gambissima, foto fatta con poca luce, andiamo avanti, video. Allora, per quanto riguarda i video, devo dire qua, invece, molto meglio di P9 Lite, peccato che manchi la stabilizzazione, bene anche però con poca luce, mentre con poca luce le foto, quello che vi dicevo prima, qualche difettino, non so, di impastamento, ma anche di luci che fanno l'effetto, non so, mi sembra che si chiama i blur, l'effetto, comunque la luce che spara un pochino, fa quell'effetto flash, questa foto col flash e senza flash, non si vede niente, quindi, col buio, purtroppo questo telefono ha qualche probleminio, però per uso generico veramente ok. È presente la radio FM, vi faccio ascoltare come si sente Moondance, alziamo subito il volume, anzi mi sa che è già al massimo. Un altoparlante che quasi spacca i timpani, veramente una pressione sonora elevata, mancano i bassi, si sente bene comunque con il jack, io ho usato le mie cuffie standard, che uso, non quelle di serie, che conosco comunque bene, sono delle cuffie abbastanza medie, insomma, cosa dire di questo P10 Lite? Mannaggia quei 50 euro di troppo, al lancio vi dicevo prima 349 euro, che mi sembrano un filo eccessivi per un Lite, è vero che ormai a 199, si trova il P8 Lite 2017, probabilmente non volevamo farsi concorrenza, ma un 299 lo avrei visto più a fuoco, penso però ci arrivi presto a questa cifra, per il resto che dire, la solita conferma che i Huawei vanno veramente bene, questo in assoluto va anche direi benissimo, soprattutto per quanto riguarda l'autonomia, migliora il design, le prestazioni rimangono molto buone, anche il P9 girava veramente molto bene, forse si poteva lavorare un pochino di più sulla cam, ma poi che senso avrebbe avuto comprare il P10 normale, forse solo per il sensore delle impronte digitali, messo davanti. Best Buy? Beh, sicuramente ottimo, ma per Best Buy intendi telefoni da rapporto qualità-prezzo, veramente altissimo, ora no, magari tra qualche mese sì. Un saluto da Andrea Galeazzi.com E non sei sbloccato? Sì che sei sbloccato. Ciao!